Come sono questi artisti? Abbiamo iniziato bene? Giovani, hai visto? Tutti i valdostani e qui ci sta un applauso. Il nostro pubblico valdostano a Semenzan. Bene, adesso adottiamo una nuova forma di arte. No, già comunque prima l'abbiamo adottata, però proseguiamo sempre con... Con l'arte del canto e abbiamo una coppia. Natalia e Nausicaa. Eccoli qua, un grande applauso. Nel frattempo noi come sempre proseguiamo con l'estrazione e io le presento brevemente. Questa sera Natalia e Nausicaa ci canteranno Distratto. Il brano che andremo ad ascoltare tra pochi minuti parla di una storia volta, ahimè, al termine. Lei è consapevole del fatto che sia per finire e anche se non sa bene ancora quando arriverà il momento della rottura, sa che il rapporto è insano e fa solo male. Quindi non ci resta che ascoltare la nostra, la nostra, le nostre, eh sì, Natalia e Nausicaa. Però adesso proseguiamo con l'estrazione. Sì, intanto gli facciamo due domandine. Allora, andate a scuola, raccontateci un po' cosa fate nelle vostre giornate, come è nata questa passione per la musica. Beh, da sempre è iniziata grazie ai nostri genitori che ci hanno fatto una cultura musicale grandissima. Siete sorelle? Gemelle. E ci stanno, perché io dicevo non volevo, ci stanno un applauso. Tutte e due con il canto. Allora, sono curiosa di ascoltarle, però dobbiamo prima vedere da chi vengono adottate. Sono state adottate dalla profumeria David. Un grande applauso per voi, queste due splendide voci. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ci sarei tu, a volermi male di un male che fa solo male. Ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu. E tu sei troppo distratto. Ehi, un'ora, un giorno o poco più, dicevi sempre per sempre. Sì, però, guarda cosa è rimasto adesso, che niente è lo stesso. Se non fa rumore l'anima, quando sei qui davanti non si illumina. È perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu. Il tuo sguardo distratto. Ehi, 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 ehi. E non vedi che sto fingendo, e non mi guardi già più, col tuo fare distratto. Oh, trappale! Non mi rivedrai più E non mi ferirai E non mi illuderai Sarai e non sarai mai più Un'ora, un giorno o poco più Per quanto ancora ti crederò Solo e perso e più confuso Non avresti voluto vedermi scivolare via Fuori dalle tue mani, che fantasia Fuori dalla tua vita, ma mi hai preso Soltanto in giro E ora vedi che sto ridendo E chi mi guarda non sei tu Tu eri sempre distratto E ora che mi sto divertendo Dimmi cerca non sei tu Tu eri troppo distratto Strappa Lei Non mi rivedrai più E non mi ferirai Non mi illuderai E non sarai mai più Per un'ora, un giorno, forse un po' di più Non girava il mondo se non c'eri tu E non volermi male adesso Se non ti riconosco Se non ti riconosco Rappresentano la profumeria David Da oltre 34 anni la profumeria Pelleteria David Offre ai propri clienti i migliori marchi del settore cosmetico Con vantaggiose offerte e promozioni Un vasto assortimento di bigiotteria e gioielleria Semi preziosa e al piano inferiore un ricchissimo reparto di pelletteria e accessori E grazie Laura Via Chanou 112 Bene Un grande applauso Adesso c'è